Buonasera a tutti amici di Rubrica Rosso Nera, ben ritrovati sul nostro canale YouTube, parliamo di calciomercato, parliamo di Jens Petter Auge perché oggi a casa Milan è arrivata la prima offerta concreta, reale, tangibile per il calciatore e per il talento norvegese è arrivata un'offerta dalla Germania, dall'Eintracht di Francoforte e un'offerta che in questo momento non convince pieni i dirigenti rossoneri è arrivata un'offerta appunto dall'Eintracht di 7 milioni di euro parte fissa più 5 milioni variabili legati ai bonus per prestazioni individuali del calciatore e prestazioni collettive della squadra Milan in questo momento ha deciso di aspettare perché è convinta che il giocatore abbia una valutazione un po' superiore rispetto ai 12 milioni offerti dall'Eintracht di Francoforte ed in qualche modo vuole aspettare sperando che venga a formarsi un'asta sul calciatore per monetizzare il più possibile, anche perché l'abbiamo già detto, Jens Petter Auge oltre all'Eintracht interessa diverse squadre della Bundesliga, tra cui il Wolfsburg che è fortemente interessa dal calciatore e sembri che anche lo stesso Wolfsburg, consapevole dell'offerta di Eintracht di Francoforte, presenti a breve una sua offerta che sicuramente sarà un'offerta migliorativa il Milan potrebbe aver deciso di non puntare su Auge per tanti motivi sia per questioni tecniche e tattiche ma anche e soprattutto per una questione di plusvalenza perché l'ha pagato poco, l'ha pagato 4 milioni, potrebbe rivenderlo per 15, quindi potrebbe fare 11 milioni di plusvalenza che rientrano nei ricavi, quindi anche in chiave financial fair play, anche in chiave di costi ricavi è sicuramente un'operazione economicamente vantaggiosa poi se parliamo del giocatore, un giocatore che comunque alla sua prima stagione in Serie A essendo un ragazzo giovane ha totalizzato 5 gol, di cui 2 in Serie A e 3 in Europa League sono numeri sicuramente non entusiasmanti ma il mister Stefano Pioli non ci ha puntato con grande regolarità con grande fiducia perché gli ha preferito molte volte Leao, Rebic e nell'ultima fase della stagione molte volte il Milan ha giocato con Saleme Kerr, con Ceranoglu e con Brahim Diez e quindi non in qualche modo ha puntato su uomini diversi che non hanno mai dato la polissimità ad Auge di mettersi in mostra è un giocatore secondo me talentuoso, Auge, sicuramente un giocatore che vede la porta un giocatore che ha dribbling, è un giocatore che riesce ed è bravo nell'uno contro uno che nel calcio moderno viene apprezzato sicuramente la Bundesliga e sicuramente la Germania è un campionato, un paese che ha attirato l'attenzione nei confronti di Auge e Auge in qualche modo sembra gradire la destinazione perché conosce il campionato tedesco ne ha parlato con alcuni suoi connazionali e per le caratteristiche intrinseche, tattiche, tecniche di Auge rappresenterebbe anche un campionato probabilmente dove lui potrebbe anche sentirsi a suo agio che è un campionato meno tattico rispetto al campionato della Serie A secondo me, e lo ribadisco con totale tranquillità, spero di sbagliarmi la cessione di ipotetiche di Auge rappresenterebbe un azzardo, una mossa sbagliata a parte la dirigenza rossonera è anche vero che un dirigente come Paolo Maldini, come Frederic Massara che hanno seguito tutta la stagione a Milanello e soprattutto Stefano Pioli, se hanno fatto questo tipo di valutazione è una valutazione sicuramente più approfondita, più dettagliata quindi non ci resta che in qualche modo aspettare, verificare, vedere gli eventi e in qualche modo, come abbiamo fatto lo scorso anno, avere grande rispetto, grande fiducia per il lavoro che i nostri dirigenti stanno portando avanti perché negli ultimi due anni il lavoro che ha fatto Paolo Maldini si è poi rivelato sempre un lavoro costruttivo, sempre che mettesse al centro il bene del Milan quindi sia Auge partirà, sono convinto che il Milan comunque cercherà di rinforzare tanto la rosa magari con un elemento di maggiore esperienza che possa fin da subito alzare l'asticella per la stagione 21-22 e come sempre se vi è piaciuto questo video vi chiediamo di mettere mi piace, di condividerlo di iscrivervi al canale YouTube di Rubrica Rosso Nera